Ma io penso qui, penso a alcuni benefattori della Chiesa che vengono con l'offerta, e prende per la Chiesa che questa offerta è frutto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, col lavoro mal pagato. Io dirò a questa gente, per favore, portati indietro il tuo assegno, bruccialo. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi, ha bisogno di cuori aperti alla misericordia di Dio.